Ecco il Maggiore. Parton! Vai da ma... Avevo tanto paura che non venissi. Avevo tanto paura che non venissi. Vincere. 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 Antonio! Vincere che... Vincere. 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 Niente, posso... Vi devo domandare una cosa, però... Non lo so se ve la posso domandare. Mi potete dare a scrivere il mio romanzo? Un romanzo? In che senso? In questo senso è qui. Un romanzo? Un romanzo? Un romanzo? Eccoci... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.